Come anticipato vogliamo parlare di editoria digitale, i giornali online, ne parliamo con il direttore commerciale e marketing di una piattaforma veramente leader in questo campo, avremo modo di dirci, so, perché ci sta particolarmente a cuore, questa piattaforma è Volucom, è il direttore Emilio Colaianni, studio a Milano insieme a noi, buongiorno direttore. Buongiorno a tutti, grazie a lei per essere venuto a trovarci, stiamo parlando appunto di queste nuove modalità di seguire i quotidiani, di averli tutti in uno stesso luogo, insomma ci sono stati fatti dei passi rispetto a questo, RTL102.5 sta utilizzando questo sistema, poi ne parleremo in modo più approfondito, intanto parliamo di questa edicola digitale di Volucom. Certo, questa è l'edicola digitale per il mercato B2B, più diffusa in Italia, è stata realizzata alcuni anni fa su richiesta di un editore che aveva un'esigenza specifica, ovvero poter consultare tutti i giornali per i quali avevano gli abbonamenti da un unico punto d'accesso, quindi non diverse app ma un'unica app per accedere a tutti i quotidiani. Chiaramente, quindi parte da lì, vi viene l'idea e cominciate a sviluppare questa questione. Come dicevamo anche RTL si è dotata di questo strumento che supporta proprio il reperimento delle informazioni e la nostra rassegna stampa al mattino, come voi ben sapete, alle 7.10 ormai è fatta con la vostra edicola. Insomma, quali sono un po' i vantaggi da un suo punto di vista, a parte noi che li conosciamo bene ma rispetto anche a tutti i vostri clienti, quali sono i vantaggi di avere un'edicola digitale? Partendo da quello che poi è il vostro vantaggio di voi giornalisti, un vantaggio operativo, ovvero arrivare all'informazione in tempi brevissimi grazie al motore di ricerca che sta dietro l'applicazione. Io posso fare ricerche cross giornale e quindi arrivare a poter leggere tutti i giornali di specifico interesse realizzando una sorta di giornale dei giornali perché ho i singoli articoli dei vari giornali in un'unica visualizzazione. Esiste un altro grosso vantaggio, ovvero che noi diventiamo un unico interlocutore per il cliente, quindi unico centro d'acquisto e unico interlocutore anche per un fattore organizzativo di scadenza degli abbonamenti, rinnovo abbonamenti, gestione delle passi, un unico referente. Esattamente. Inoltre l'altro grosso vantaggio è che realmente l'accesso al giornale avviene volendo alla mattina anche molto presto. Sì, è una cosa per noi molto importante, no Roberto? Esattamente. Noi che facciamo con la rassegna stampa, anzi io la ringrazio perché mi sono ritrovato a utilizzare questo vostro supporto, veramente comodissimo, soprattutto raccoglie tanti giornali, tutti quelli appunto a cui si ha l'abbonamento. Quindi in un certo senso consente di spaziare anche tra appunto un giornale e l'altro fornendo più punti di vista. Si può dire che è un modo anche di dare una mano a superare quella che è la crisi dell'informazione, questa tendenza a informarsi sempre di meno, comunque sia la possibilità di confrontare più fonti in un certo senso? Assolutamente sì, anche perché oltre le fonti, chiamiamole cartacee, ovvero oltre i quotidiani possiamo accedere a tutta una serie di siti web, siti di informazione, notizie audiovisive e questo avviene appunto, ricordo sempre, da un unico punto d'accesso. Quindi in maniera molto semplice, molto diretta e molto veloce. Insomma è un sistema che comporta anche dei benefici dal punto di vista ambientale, insomma quanto ne parliamo in questi giorni, quanto è importante anche questo aspetto e naturalmente insomma va, come dire, a portare un beneficio economico agli editori. No, perché l'equivoco è considerare il digitale rispetto ai giornali come qualcosa che si scarica abusivamente perché abbiamo visto anche queste pratiche. Tanto è vero che insomma tra i vostri clienti ci sono tutti gli editori dei giornali e i vostri clienti spaziano dalla presidenza del Consiglio dei Ministri alla prima radiovisione italiana fino al Corriere della Sera, ad esempio, Repubblica. Sì, questo è un concetto che ci piace rimarcare spesso, che bisogna essere in regola col diritto d'autore, quindi bisogna avere l'abbonamento ai quotidiani. Per far questo noi abbiamo dovuto fare accordi specifici con quasi 100 editori. Inoltre, come dicevate, anche l'aspetto green è importante perché passando dal cartaceo al digitale si permette di consumare meno carta, inchiostro e inoltre pensiamo anche allo smaltimento della carta, che anche questo comporta emissioni di CO2 e consumo di tempo. Sì, quindi questa situazione va a finire anche nel bilancio di sostenibilità in realtà delle aziende, no? È un tema molto sentito in questo periodo, in questi anni e quindi è importante che le aziende che si dotano di questo sistema sappiano che anche questo va a loro favore. Insomma, ecco, noi abbiamo citato gli editori, ma ci sono le aziende che ovviamente si portano volentieri in casa questo sistema per poi divulgarlo ai propri clienti, ai propri fornitori. Insomma, sicuramente molto interessante. Sono tantissime, fare l'elenco insomma sarebbe veramente impossibile perché sarebbero molti minuti. Allora, vi abbiamo parlato del giornale dei giornali, così l'ha definito il direttore commerciale e marketing di Volocom, come ricordiamo, piattaforma leader in questo campo, è il settore naturalmente dell'editoria digitale. Emilio Colaianni, grazie per essere stato con noi, gli auguriamo buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata. E volevamo fare un saluto anche speciale. Ne approfitto per fare un saluto alla bambina che oggi fa nove anni, se no quando torno a casa è molto rischioso. Come si chiama? Martina. Ciao Martina, auguri anche da parte nostra. Perché dietro i più grandi direttori ci sono dei padri, no? Ci sono delle famiglie e dei figli. E questo è molto bello ricordarlo.